acher ma perché? vedete fai subito il terzo no 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 no, scusate mi sono passato no 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 e li facciamo possiamo parlare? si si qua andiamo Scusa, lo scontrino? Sì, subito Eh, cazzo, scusate Sì, subito A posto, grazie, buonasera Sì, sì, lo scontrino? Sì Ciao, a lei Ci vede una domanda Sì, sta reggendo la scena, bellissima Io poi non ho capito una diavolo di cosa Ma il polistirolo Io con la raccolta differenziata non ci ho capito assolutamente nulla Poi c'è l'umido, piove E le buche si riempiono E sto schifo della... Rifacciamo Ma dove siamo? Cosa hai fatto? Che se ne hai fatto? Si è stata fatta la scena sul calcio Vladi è caduto sulle ginocchia Sette volte C'è ma fa male serio comunque Ed ora? Ed ora? Sì, siamo Sì, siamo No, vai Umbriaca Vai tranquillo Sì Via No, sbagliato Troppe combinazioni Aspetta, devo fare così e così Però fallo più diritto Sì, sì Chi te l'ha fatto fare? 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 Grazie a tutti.